Ancora una giornata da bollino nero per Prato sul fronte dei nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore sono 205 in più e si registrano anche due morti sui 15 totali contati in Toscana nelle ultime 24 ore in base al bollettino regionale. Sale quindi a 62 il totale dei decessi a Prato e provincia, mentre in tutta la regione sono 1290. Si tratta di una ottantenne e di un'ultra novantenne, entrambi ricoverati in ospedale. E a proposito dell'ospedale, la situazione dei posti letto occupati da pazienti covid al Santo Stefano è sostanzialmente stabile. Come ieri sono 70, 64 nelle medicine e 6 malattie infettive, mentre in terapia intensiva crescono di due unità, passando da 12 a 14. Questi numeri così alti sul fronte dei nuovi positivi a Prato sono legati al recupero del tempo perso la scorsa settimana, quando si è verificata una semiparalisi del sistema di processamento dei tamponi a causa della mancanza del materiale per effettuare l'analisi dei campioni prelevati. Nel dettaglio dei 205 nuovi casi, 155 sono a Prato, 23 a Montemurlo, 11 a Vaiano, 10 a Carmignano, 4 a Poggio a Caiano e 2 a Vernio. Rispetto a ieri diminuisce il numero dei minorenni, che è poco più di una decina. In tutta la regione i nuovi positivi al coronavirus sono 1.823 su un totale di 35.284 casi registrati dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi sono il 5,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 1.823 casi odierni è di 44 anni circa. Le persone complessivamente guarite sono 12.954, 144 in più rispetto a ieri. Infine un aggiornamento sul fronte RSA. Nella giornata di ieri sono rientrati i tamponi effettuati la scorsa settimana a Villa Nicolini. Su 79 ospiti sono risultati positivi in 21, di cui 15 in struttura e sei ricoverati in ospedale. Tra gli operatori invece 48 sono negativi e 9 positivi. Per quanto riguarda le altre RSA, i tamponi arrivati fino a oggi sono tutti negativi, dunque al momento gli unici focolai presenti sono quelli di Villa Amelia e Villa Nicolini.